Il libraio. Proprio davanti a casa mia c'è sull'angolo della via una strana libreria. Il libraio è un vecchio metto, la sua bottega è solo un carretto, coi libri in fila su un palchetto. Intorno al carretto c'è uno studente, un pensionato ed altra gente che sfoglia i libri e non compra niente. Il vecchio libraio non protesta perché ha le tasche vuote e buona testa. Guardare i libri è già una festa.